Un anno, in realtà anche un po' di più. È passato più di un anno da quando ho iniziato a dedicarmi ogni giorno a Shambhavi Mahamudra Kriya, che è un tipo di meditazione che dura circa una mezz'oretta al giorno, un Kriya Yoga. Quindi qualcosa che va a lavorare proprio sulle energie del corpo, va a lavorare proprio a livello fondamentale, non su mente e corpo, ma proprio a livello fondamentale su di sé. È la tecnica principale che viene insegnata da Sadhguru nel suo corso Ingegneria Interiore. Lui è uno degli insegnanti spirituali più conosciuti, più importanti della nostra epoca contemporanea. E quindi volevo darvi un po' il mio feedback. Come ci si sente dopo un anno? Tra l'altro, se volete vedere il video in inglese, o comunque più video anche sulla parte spirituale, ho un canale inglese separato che vi metto in descrizione, che ho aperto da poco esclusivamente come esperimento per questa cosa qua. Ma probabilmente andrà avanti, vediamo com'è. Anche perché ultimamente sto facendo tanti video in italiano su questo canale. È vero, metto i sottotitoli, però purtroppo è difficile tenere due lingue sullo stesso canale. Quindi ho aperto canali separati in inglese, vediamo come va. E mal che vada, cambierò questo in inglese, non so. Fatemi anche voi sapere cosa ne pensate. E in più un'altra cosa è che ogni video, d'ora in poi, come questo, cercherò di rispondere. Già rispondo a tutti i commenti di ogni video. Ma cercherò di prendere un commento, quello che più mi piace, oppure quello che trovo che sia più utile, se hanno tutti lo stesso numero di mi piace o non ne hanno, e ne rispondo, uso i prossimi video per rispondere. Quindi utilizzo il vostro feedback per capire su cosa creare contenuti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Perché ho proprio pensato, ultimamente, mentre cercavo di capire che genere di video fare, sto cambiando tante cose nella mia vita, sto facendo tanta introspezione, proprio ho pensato che questa è una cosa che mi piace fare. Perché comunque alla fine la mia maestria, quello su cui mi sto concentrando, è un po' self-mastery, quindi del mio corpo, della mia mente, delle mie emozioni, delle mie energie, della mia routine, della mia vita. Sto cercando di migliorare sempre di più in tutto. E condividendolo con voi, con le persone, almeno da aiutare una persona, per me è già tantissimo. Quando ricevo i vostri messaggi, i vostri commenti, dicendo che vi aiutate in qualche modo, è la motivazione che mi fa andare avanti. Quindi fatemi sapere. Ho provato tante pratiche da quando ho iniziato il mio percorso interiore, circa 6-7 anni fa, proprio a livello specifico. Diciamo che Isha Kriya, che era sempre una meditazione base, diciamo un pre-Shambhavi, sempre di Sadhguru, mi aveva cambiato la vita. L'avevo fatto per un mandala, 90 giorni di fila, e mi era piaciuto tantissimo, mi aveva stravolto la vita. Avevo deciso di fare poi il corso, l'ho fatto, il corso di ingegneria interiore. L'ho fatto in realtà tre volte, poi pian piano negli anni. Ma diciamo che dopo che l'ho fatto la prima volta, ho fatto l'iniziazione in questa pratica, perché come tutti i Kriya Yoga, più che una tecnica da imparare, è proprio una vera iniziazione, quindi ti viene trasmessa questa pratica, da guru a persona. E anche se noi occidentali, con la parola guru, siamo un po' diffidenti, perché abbiamo questa idea della spiritualità, un po' così. Ma è come voler imparare a diventare un atleta olimpico senza un maestro. Puoi provarci, ma è difficile. Quindi serve a quello. È un po' come una torcia che ti aiuta a vedere meglio, o a trovare la strada migliore. Quindi l'avevo fatta. E diciamo che subito, nell'iniziazione, come ho parlato già in altri miei video, ho avuto delle esperienze incredibili. Ho mantenuto per 40 giorni un mandala, la pratica, ogni singolo giorno. E anche lì, con i giorni un po' meno, con i giorni un po' di più. Però mi è piaciuto molto. E dopo da lì, siccome già facevo altre pratiche, siccome già facevo anche Hatha Yoga, e tutti i giorni faccio Hatha Yoga, e siccome in realtà inserirlo nella routine non è così semplice, perché comunque va fatto a stomaco vuoto. E quindi o la mattina presto, o alla sera tardi. Alla sera tardi diventa un po' un problema, perché dipende da che ora finisci di mangiare, poi le tue robe, insomma varie cose. Poi a mezzanotte non si può fare, è sconsigliato. Quindi diciamo che alla fine devi metterti in testa che devi alzarti un po' prima e farla. Ti dicono che dura 20 minuti, in realtà alla fine ci vuole una mezz'ora, 40 minuti, per fare tutto bene. E quindi diciamo che all'inizio è un po' difficile. Lo facevo alternato, alcuni giorni sì, altri no, in base anche alle altre cose che facevo la mattina. A un certo punto ero arrivato a... facevo fatica, perché tutti i giorni mi alzavo e avevo oltre a quello tante altre cose prima di colazione. Quindi a volte dovevo fare colazione alle 2 di pomeriggio, perché se mi alzavo alle 9 dovevo leggere il libro. Dopo il libro andavo a fare la skin care, oil pulling, diari di rettitudine, giapponese, poi facevo hatha yoga, poi meditazione, e poi andavo a fare colazione, a volte anche palestra prima, quindi era un po' un problema. E quindi diciamo che pian piano in realtà ho iniziato a inserirlo sempre meglio, sempre meglio, e sempre più in modo efficace. Ho iniziato a inserirlo, all'inizio non lo tenevo tutti i giorni, poi dopo quella realizzazione di cui vi ho parlato sul mio canale, ho avuto... ci sono momenti in cui ti scoppia, questa cosa proprio ti scoppia dentro, e ti fa come se Marco, la persona, l'avatar che ti sei creato, morisse per un attimo. E pian piano, sempre di più, le tue paure se ne vanno, le tue convulsioni se ne vanno, sei sempre più consapevole, sempre più conscio, e quindi inizi a vedere, analizzare anche i tuoi problemi di persona, quindi la mente, il corpo, i pensieri, e inizi pian piano a risolvere anche quelli, tant'è che fai un periodo in fast forward quando inizi il tuo percorso interiore, quindi ti sembra che tutto vada più veloce, e sembra che ti accada tutto il negativo possibile, ma è proprio perché stai prendendo un po' di distanza dalla tua persona, e quindi vedi le cose con più chiarezza, e quindi ovviamente tutti i problemi li vedi in un colpo, le cose che dovevano capitarti in una vita ti capitano tutte subito, però hai la possibilità di poterci lavorare subito, e quindi puoi vivere in modo diverso, perché quando hai meno paura, ti avvicini di più alle cose, te le godi meglio, te le vivi, osi di più, vivi più intensamente, e quindi diciamo che oltre a tantissimi benefici superficiali, ad esempio il corpo, malattie non mi ammalo così mai, posso dormire quante ore mi pare senza soffrirci troppo, caldo e freddo non li sento tanto da starci male, cose, fluttuazioni, cose mentali, compulsioni, le vedo molto di più, quindi riesco ad attaccarle subito, o comunque riesco ad essere più responsabile delle cose, tantissime cose accadono, un po' come se fossi una roccia un po' più stabile, molta più stabilità, sia interiore che a livello anche di corpo, ma poi tanta consapevolezza su problemi da risolvere, quindi questi ultimi anni li ho fatti veramente tanto di introspezione, per migliorare, togliere quei limiti che non vedevo, togliere quelle cose, lavorare su alcune cose, per crearmi proprio la mia vita, imparare a rispondere alle cose in modo conscio, e quindi diciamo che quello che è cambiato di più di tutto è questo, un po' questa consapevolezza, e da lì è arrivato un po' tutto, e poi diciamo che quando ci sono quei giorni in cui lo senti di più, giorni in cui lo senti di meno, giorni in cui magari è da fare, perché diciamoci la verità, non viviamo in un ashram, non siamo tutti monaci, ognuno comunque ha la propria vita e tante cose da fare, quindi tenerlo tutti i giorni, già non è facilissimo per tutti, e non avere indipendentemente da vacanze, studio, tutto quello che devi fare è lavoro, comunque tenerlo ogni singolo giorno, viaggi, non importa, comunque tenerlo, l'ho tenuto, ma farlo tutti i giorni anche perfettamente, ci si prova, ma non è facilissimo, ci sono giorni in cui lo fai, ma la tua mente continua a vagare, però pian piano, più lo fai, e più in realtà capisci anche cosa funziona, come non funziona, e a fine video ti dirò anche i miei consigli, per la meditazione, o comunque se volete provarlo, quello che per me funziona di più, e diciamo che dopo quei giorni in cui invece lo fai proprio al massimo, ti senti un po' come se fossi quasi fatto, ti senti benissimo, ti senti rilassato, ti senti qui presente, qui ora in unione col tutto, in yoga, e diciamo che quei giorni sono quelli che proprio ti cambiano un po' la giornata all'inizio, dura un po', poi pian piano svanisce l'effetto, dopo pian piano diventa sempre un po' più stabile, e sempre più continuativo, e adesso è un punto in cui, diciamo che se voglio lasciarmi andare, e essere qui e ora, e star bene, indipendentemente da quello che accade fuori, posso farlo, e quindi è tutto un po' esilarante, è tutto, cioè vedi le cose come stanno, che alla fine sono quasi ridicole, perché siamo queste creature, che si creano tutta questa roba tra di loro, ma in realtà alla fine è tutto un po' nella nostra testa, quindi quando esci dalla testa fa tutto un po' ridere, però è bellissimo perché ti fa anche avere meno paura, e quindi vabbè, cose pazzesche, insomma diciamo che le conseguenze, i risultati sono talmente interiori, talmente inescrivili, talmente tipo alla radice, che è anche difficile spiegare gli effetti alla fine, quindi indipendentemente che sia Shambhavi, che sia Sadhguru, che sia qualcun altro, fare una pratica interiore ogni giorno, lavorare sul proprio sé interiore ogni giorno, è importantissimo, e diciamo che ora vi do dei consigli, quello che posso dire è che tutte le cose che ho imparato, che sto imparando, di mia esperienza, libri, corsi, qualsiasi cosa, alla fine dei conti, nel corso di Sadhguru, ingegneria interiore, alla fine del corso, dopo averti insegnato anche delle cose teoriche, per prepararti alla pratica, ti danno questa breve, diciamo, delle frasi, da ripeterti ogni giorno, che è un po' un crash course, una cosa veloce, per ricordarti quelle cose, e rimetterti nella direzione giusta all'interno di te, a metterti nell'ingegneria giusta dentro, per far sì di crearti il tuo destino come lo vuoi, di star bene, perché per fare le cose fatte bene, devi star bene, e ci vuole coraggio, fidatevi, perché qua è difficile imparare a lasciarsi andare, all'inizio fai le cose in modo un po' così, poi pian piano impari a lavorare anche sui, le tue limitazioni, le tue credenze limitanti, tutte queste cose, vedendole, e quindi pian piano rimuove gli ostacoli, che ti permettono di lasciarti sempre più andare, e goderti sempre di più anche la meditazione, quindi è un po' una questione di pratica, è come andare in allenamento, non vai in palestra e vedi subito i risultati, ci vuole un po' di tempo, e dopo un po', a un certo punto, un giorno ti guardi allo specchio, e dici, wow, è un po' la stessa cosa, e diciamo che è un po' per quello che le persone fanno fatica, perché lo fanno, ma i risultati non sono tangibili, si sentono, devi avere anche la consapevolezza di sentirli, e in più ci vuole un po' di tempo, ma va fatto, bisogna avere fiducia e farlo, tutti i giorni, e diciamo che quando ho iniziato poi a ripetermi queste cose ogni giorno, ogni volta che imparavo qualcosa dopo un po', ho iniziato a connettere i puntini e a pensare, ma cavoli, ogni cosa in realtà è già contenuta in questi insegnamenti, e quindi più imparavo cose, e più mi sono fatto una lista e dire, ma questo è già comunque una cosa che era contenuto lì, quindi mi accorgevo più andavo avanti, che tutte quelle cose che avevo imparato, erano comunque nel retro della mia mente, e pian piano andando avanti nella mia vita, nell'esperienza, le vedevo sempre di più, e quindi ogni cosa compariva, e dicevo, cavoli, ma questa cosa la so, è solo che saperla è una cosa, farne poi esperienza diventa saggezza, diventa un'altra cosa, e quindi è un po' come, è una cosa pazzesca, quindi ripetersi anche questa cosa è molto utile. Secondo consiglio è, per fare in modo che la meditazione avvenga nel migliore dei modi, bisogna prendere quei 20-30 minuti, perché loro ti dicono dura 20 minuti, ma in realtà ci vuole un po' di più, come dicevo, però prenderti quei minuti, e lasciarsi completamente andare. I giorni in cui ho sentito di più, più intensi, che mi hanno cambiato la vita, sono quei giorni in cui, indipendentemente da quello che stava accadendo fuori, mi lasciavo andare completamente al cria, lo sentivo, cercavo di godermi l'esperienza al 100%, per quei 30 minuti non ci sei per il mondo, non vuoi niente, non sei niente, non ti interessa niente, non hai niente, sei proprio come morto, non ci sei più, ti riprendi su tutte le tue robe, quando finisci la meditazione, ma per quei 20-30 minuti, lasciarsi andare e goderselo, sentire questa cosa al 100%, e un'altra cosa che mi aiuta è anche la questione della stillness, della fermezza, che ti dicono, devi essere fermo, immobile, dentro e fuori quando mediti, ma è una cosa che accade naturalmente pian piano, ma ho notato anche che quando lo facevo, nel momento in cui, proprio semplicemente, cercavo anche di essere fermo, proprio anche fisicamente, mentalmente e tutto, riuscivo a vedere tutto quello che accadeva come un testimone silenzioso molto meglio, sia nella mente, quindi i pensieri e tutto, che dentro il corpo, che anche fuori, e quindi anche queste cose, di rimanere completamente fermi, lo consiglio, è una cosa da fare in pratica, secondo me, e basta, e la terza cosa, magari aggiungere delle cose nella tua routine, anche tipo la Hatha Yoga, cose che ti aiutano a prepararti a questo, però lo consiglio, lo consiglio tantissimo, se non volete farvi il corso, consiglio comunque Isha Kriya, o se volete fare qualsiasi altro tipo di pratica interiore, io non sono affiliato a nessuno, quindi semplicemente vi dico quello che per me ha funzionato, e come è stata la mia esperienza, quindi sì, lo faccio ancora, tutti i giorni questa volta, non è facile, ma ti cambia la vita, fatemi sapere nei commenti, se anche voi fate una vostra pratica, di cosa volete che parli nel prossimo video, o se avete delle domande, e ci vediamo nel prossimo video.